Una chiesa in crescita, quella del Chad, anche se minoritaria, che ha saputo diventare elemento strutturale della società in un paese a maggioranza musulmana e ancora legato alle tradizioni religiose locali. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio consegnato ai vescovi del paese africano ricevuti nel corso della loro visita ad Limina. Grazie all'evangelizzazione le comunità cattoliche crescono anche per qualità di impegno, riconosce il Papa, soprattutto nei campi dell'istruzione, della salute e dello sviluppo e le autorità civili sono molto grate per il ruolo della chiesa nella società. L'azione evangelizzatrice comporta però, ricorda Papa Francesco, un approfondimento e un radicamento della fede nel cuore dei fedeli per sopportare le prove molte al giorno d'oggi. Per questo è necessario che i fedeli siano saldamente formati innanzitutto attraverso la catechesi e il Papa invita i vescovi ad aggiornare attraverso un rinnovato spirito missionario i metodi catechistici. Ciò che c'è di buono nelle tradizioni locali andrebbe considerato e valorizzato, ciò che non è cristiano dovrebbe essere invece chiaramente denunciato. Infine Papa Francesco invita a proseguire e sviluppare il dialogo interreligioso per continuare a scoraggiare il diffondersi di quelle violenze di cui i cristiani sono già vittime nei paesi vicini al Chad.